Un saluto a tutti cari amici e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vedremo insieme una battaglia eccezionale. Un'altra sfida pazzesca tra titani giocata nella fase match play dell'Heriting Masters, due dei più forti giocatori del mondo, due dei più forti nel gioco rapido, Ikaru Nakamura di bianco e Daniel Dubov con i pezzi neri, si giocano uno dei sei posti della fase finale dell'Heriting Masters. Quasi un peccato che questa partita si sia giocata così presto. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Rocco e Federico, due nuovi abbonati alle mie video lezioni che trovate qui sul canale a soli 2,99€ al mese. Sono una libreria di video su tutte le fasi del gioco che si arricchisce mese dopo mese e che conta già 22 ore di contenuti. E quindi vi aspetto sempre più numerosi. Passiamo subito a questa, secondo me, eccezionale perché super istruttiva partita. Non dimenticate il like e partiamo. Nakamura di bianco apre la partita con E4. Dubov di nero risponde con C5, la difesa siciliana. E allora arriva cavallo in F3. E6, ormai lo sappiamo, è la mossa che caratterizza i sistemi Kan o Taimanov. Nakamura va per la siciliana aperta. D4 e per D4 il cavallo ricattura. Ora con A6, come dicevamo, si entra nella Kan, con cavallo in C6 nella Taimanov. Terza mossa più giocata, cavallo in F6. Ma la struttura un po' della Taimanov rimane lo stesso. Allora, pedone sotto attacco, si difende col cavallo in C3 e arriva cavallo in C6. La continuazione più giocata in questa partita per fargli cambiare struttura al nero è cavallo in D che va in B5. Cosa fa? Questa la vediamo spesso contro questa difesa siciliana. Anche quella giocata da Karzen spessissimo. La minaccia il salto del cavallo con scacco. Naturalmente mica si potrà spostare il re. E allora il nero purtroppo sarà costretto a cedere la coppia degli alfieri. Allora in questa posizione cosa deve fare il nero? Deve giocare D6. Creare il piccolo centro. Si entra in una struttura tipica della Scheveningen. In questa posizione Nakamura però non gioca il cavallo in B5. E gioca A3. E allora si continua con lo sviluppo. Alfiere in E7. F4 particolarmente aggressiva. Rocco corto per il nero. Alfiere in E3 sulla diagonale scura. E arriva E5. Cavallo per cavallo. Il pedone di ricattura. Perché il nero non ha paura di farsi cambiare le donne. Perché ha già arroccato. Quindi riprenderà di torre. E arriva anche F5. Come mai Nakamura non ha vinto il pedone? Ritorniamo indietro. Guardate che succede. Dopo F per E5. Che ottenuto attacca il cavallo. Ma il cavallo si sposta in G4. Per non perdere la coppia degli alfieri. Ora il computer qui suggerisce il cambio donne. Che sicuramente è buono. Donna per donna. La torre ricattura. Ma il problema è un altro. Che non si riesce a difendere il pedone. Neanche con alfiere in F4. Perché soprattutto senza donne. G5. Quindi aprire leggermente l'arrocco. Non fa danni. L'alfieri si deve spostare. Il nero si riprende il pedone. Addirittura il bianco è rimasto col pedone isolato. Il nero sicuramente sta un po' meglio. Allora per questo motivo Nakamura non ha catturato. Ha giocato F5. Donna per donna. La torre ricattura. E arriva a B5. Contrattacco sul lato di donna. Alfieri in D3. Che per arroccare corto naturalmente. Arriva anche l'ottima a 5. Cavallo in B1. Per riportarlo in D2. Il nero. Non solo è equalizzato. Sta anche meglio. Questo è un momento molto importante della partita. Cosa dovrebbe fare Dubov? Ora ricordiamoci. Queste sono partite a 10 minuti. Più 2 secondi. Di incremento per mossa. Quindi un po' di tempo c'è. Ma non il tempo necessario. Per portare avanti questo tipo di posizioni. Alla perfezione. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe giocare alfiere in A6. Come mai? A proteggere il pedone. In modo tale da poter avanzare tranquillamente in C5. Invece Dubov fa una scelta interessantissima. Ma anche complicata da valutare. Soprattutto senza tempo. Cosa fa? Gioca direttamente C5. Sacrifica il pedone. Ma più che altro si sciupa qui la struttura. E per quale motivo? Guardiamolo subito. Nakamura cattura. Ma vedete che l'alfiere stava proteggendo il pedone centrale. Arriva all'intermedia. Torre in B8. E quindi migliora la torre. Per non far cadere il pedone in B2 bisogna giocare A4. E adesso Dubov si riprende il pedone. Ha un pedone passato centrale. Pedone sotto attacco. Viene difeso direttamente giocando a Rocco Corto. Ora, chi sta meglio in questa posizione? Certo, Dubov ha il pedone passato. Oltretutto centrale. Il computer non condivide appieno questa scelta. Ma la partita rimane aperta a qualsiasi risultato. Arriva G6 che attacca il pedone più avanzato. F per G6. Si riprende col pedone H. Torre in F che va in E1. E allora minaccia a raggi X il cavallo. Completa lo sviluppo Dubov facendo una minaccia perché minaccia la torre. Torre in D3. Alfiere in F5. Cavallo in A3. Cavallo in F6. Torre di nuovo sotto attacco. E' costretto a riportarla a Nakamura in D1. Ora, cosa minaccia però? Dopo essersi spostato minaccia il doppio di cavallo. Cavallo in C4. Cosa bisognerebbe giocare in questa posizione? L'idea migliore a disposizione del nero è giocare C4. Come mai? Non si può catturare gli alfiere perché casca con gravissimi danni il pedone in B2. E allora dovrà riprendere di cavallo. Ma il cavallo vedete che proteggeva C2. Alfiere che cattura in C2. Torre in C1. Alfiere in D3. Con quasi totale parità. Cosa fa Dubov in questa posizione? Prima di spingere C4 perché naturalmente l'ha vista anche lui. Gioca contro la coppia degli alfieri. Cavallo in G4. Allora per il computer portare questo alfiere in C1 sarebbe l'idea migliore. Ma vado a sapere senza tempo. Alfiere in D2. Il nero ha equalizzato. Arriva C4. H3 attacca il cavallo. Alfiere in C5. Arriva con scacco. Come mai? Perché Dubov non vuole ritornare indietro col cavallo. Vedete che questo alfiere con lo scacco controlla anche questa casa F2. Allora Re in F1. Cavallo in F2. Attacca la torre. Torre costretta a lasciare la colonna centrale aperta. Il nero ha completamente equalizzato. Allora cavallo in E4 contro l'alfiere. Alfiere in E3 perché non vuole lasciargli la coppia. Arriva anche C3. Alfiere per alfiere. Che attacca la torre. Pedone per pedone. Che attacca la torre. Torre per torre. Il pedone si riprende da torre e diventa donna. Torre per donna. Il re ricattura in F8. Sono passate 27 mosse. E siamo in un finale interessantissimo. Difficile capire chi stia meglio. Per il computer la posizione è totalmente di parità. Umanamente parlando. Dubov che ha due isole pedonali. Vedete. Una e due contro tre. Probabilmente. Il bianco. Cioè Nakamura è un po' più difficile da giocare rispetto al nero. Torre in E1. Mossa migliore. Attenzione. Pezzo. Noi bisogna sempre ricordarci queste cose tattiche. Un pezzo sotto attacco. Difeso da un pezzo e non da un pedone. È sempre una debolezza tattica. Si arriva a G4 in questa posizione. Il nero è perduto perché ha perso un pezzo. E allora gli fa spazio Dubov con G5. In caso di G4 l'alfiere si sposta ma rimane in difesa del cavallo. Torre in E3 e arriva a F6. Proteggendo il pedone il cavallo si può spostare. Cavallo in C4 attacca il pedone. Torre in C8. Di nuovo. Se cavallo per pedone e torre per pedone. Allora re in E1. Re in E7. E arriva a G4. Alfiere in G6. Cavallo per pedone. Torre per pedone. Rifermiamoci un attimo. La situazione è cambiata. Sempre un'isola pedonale contro due. Fastidioso però questo pedone. Nakamura ha il pedone passato lontano. E allora questo pedone. Noi sappiamo che il pedone è passato. Quando può deve avanzare. E che va sorretto da dietro. E va attaccato da dietro anche dal giocatore nero. Allora. Alfiere per nulla. Alfiere in D3. Attacca il cavallo una seconda volta e attacca la torre. Ora come se ne esce? Praticamente questo bianco minaccia di vincere il pezzo. Allora bisogna fare la stessa minaccia. Torre in C5. Quindi un cavallo per un cavallo. Il cavallo si sposta. Attenzione perché questo è inchiodato sull'alfiere. Quindi va spostato bene. Cavallo in C3. Di nuovo. Se alfiere per alfiere. Torre per cavallo. E siamo arrivati ad un quizzetto. Lo catturereste voi al posto di Nakamura. L'alfiere lasciando in presa il cavallo. Pensateci un secondino. Ritorniamo subito a noi. E sarebbe la scelta migliore. Perché dopo si rimane. Se si cambiano anche le torri. In un finale di pedoni. Con il bianco che ha l'alfiere. E con i pedoni da entrambi i lati della scacchiera. Quindi con un piccolo vantaggio del bianco. Invece non lo farà Nakamura. Cavallo in B6. Allora glieli cambia Dubov. Alfiere per alfiere. La torre ricattura. Re in E6. Il pedone passato. Se può. Deve sempre avanzare. E qui può. Perché la torre non lo può catturare. Se no si perde un pezzo. E allora giustamente che cosa fa Dubov? Libera l'azione della torre. Spostando il cavallo. Bellissima la manovra di Nakamura. Torre in A3. Si piazza con tempo. Dietro il pedone passato. Per aiutarlo a spingere. Allora il cavallo sotto attacco si porta in B4. Attenzione al doppio di cavallo. Allora torre in A4. Cavallo in A6. Blocca il pedone passato. Blocca la sua avanzata. Ricordiamoci. Che il cavallo è considerato tra i pezzi il miglior bloccatore. E allora ricordiamoci un po' queste manovre e queste idee. Perché queste sono idee forti. Che sicuramente migliorano il nostro gioco. Se noi le mettiamo in pratica. Allora. Il cavallo del bianco si porta in C4. Re in D5. Con tempo. Il cavallo si sposta con scacco. Re in C6. Guardate come Dubov. Avvicina il re per eliminare il pedone passato. Re in E2. Qui il bianco deve giocare bene. Re in B5 attacca la torre. Torre in A1. Ora. Molto difficile trovare le manovre migliori. Perché. Qual è il punto debole del nero? Il punto debole del nero è il pedone arretrato. Cioè il pedone che non può avanzare. E non è difeso da nessun altro pedone. Allora. Torre in C6. Probabilmente è una buona idea. Con l'idea magari anche di continuare a proteggere il pedone. Di portarlo anche di fronte al pedone passato. Per tentare di catturarlo. Altra idea ottima è quella giocata da Dubov. Il cavallo in B4. Suggerita anche dal computer. Come probabilmente la migliore. Cosa vuol fare? Che cosa minaccia? Minaccia. Torre in C3. Quindi di attivare la torre. e se il cavallo si sposta vincere il pedone. Se il cavallo non si sposta il bianco non se ne accorge. Torre per cavallo. Il re cattura. Doppio di cavallo. E il nero rimane con un pezzo. Rimane col cavallo contro i pedoni. Quindi vince la partita. E allora arriva a 6. Mossa eccezionale. Perde il pedone passato. Ma guardate che succede. Cavallo per pedone in A6. Torre in F1. Attacca il pedoncino. Torre in C6. Lo cattura. Ma arriva il secondo attacco del cavallo. Nakamura. Si riprenderà il pedone. Ora forse l'idea migliore a disposizione del nero. È quella di ricentralizzare il cavallo. A Dubov piace il cavallo in C5. Che è più offensiva. Non vuol farsi bloccare la torre. E allora per prima cosa gioca torre in C2 con scacco. Re in F3. E adesso cavallo in C5. Cavallo per pedone. Non soltanto il bianco si è ripreso il materiale. Ma guardate adesso come struttura sta pure leggermente meglio. Torre in C3 con scacco. Re in G2 a proteggere anche il pedone. La manovra migliore è cavallo in E6. Cavallo in F5 con scacco. E invece arriva re in C4. Torre in F5. È un attacco doppio. Re in D4 protegge il pedone. Torre che cattura in G5. Siamo arrivati ad un momento importante di questo difficile ma anche logico e bellissimo finale. Di nuovo la manovra corretta. È cavallo in E6. Cavallo in F4 con scacco. E invece arriva E4. Torre in D5 con scacco. E il re dovrebbe andare in E3 che pare brutto a occhio perché blocca l'avanzata del pedone passato. E quindi visto che c'è poco tempo Dubov gioca re in C4. Questo è un erroraccio. Nakamura pensate non lo punirà. E quindi qui siamo arrivati al nostro quizone. Cosa giochereste al posto del bianco? Mettete pure in pausa e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi. E qui il colpo tattico è simile a quello che abbiamo visto nella variante di prima. Bisognava giocare torre per cavallo con scacco. E dopo che il re ricattura. Cavallo che cattura il pedone in E4 con scacco. Il re si sposta. Cavallo per torre. Re per cavallo. Ma il bianco rimane con i due pedoni e vince tranquillamente questo finale. E invece cosa fa Nakamura? Incredibilmente gioca G5. Anche lui avanza il pedone passato. E quindi vedete cosa riesce a fare lo stress di una partita di scacchi. E la mancanza di tempo anche a questi super campioni. Quindi non abbattiamoci troppo per i nostri errori. online. Capita a tutti. Ora con una mossa di cavallo Dubov rientra in partita. Sia con cavallo in E6 ma anche con cavallo in D3. E invece arriva torre in C2 con scacco. Re in G3. Torre in C3 con scacco. Ma guardate questi scacchi di torre paradossalmente migliorano la posizione del re di Nakamura. Re in G4. Torre in C1. E arriva G6. Pedone passato che avanza. Torre in G1 con scacco. Re in H5. E arriva E3. Torre in E5 dietro il pedone passato. Re in D4 attacca la torre. Ma la torre dovrebbe andare in E8. Perché rimane dietro il pedone passato. Controlla un'altra volta la casa di promozione. E invece guardate che si inventa Nakamura. Torre per pedone. Un sacrificio di torre. Il re ricattura. Piazza il cavallo in G4 con scacco. E lui ha creato il ponte. Il famoso ponte. Quella figura che noi vediamo nei finali di torre e pedone. Ma al posto della torre è il cavallo. E ora naturalmente se il re si sposta il pedone diventa imbloccabile. E allora è costretto a ridare la torre Dubov. Torre per cavallo. Il re ricattura. E qui arriva cavallo in D7. Pensate. Questo è l'errore decisivo. Perché cavallo in D7. Pattava la partita. Nakamura punisce subito questa mossa con re in F5. E cosa fa? Fa da muro al re nero. Ma più che altro impedisce cavallo in E6. E senza cavallo in E6. Qui è inutile anche andare a giocare il cavallo in F8. Perché il pedone avanza. E con il re accanto. La partita è finita. Cosa bisognava fare? Guardate che differenza. Cavallo in C6 è la mossa che patta. Perché ugualmente arriva re in F5. Cavallo in G7 con scacco. Re in F6. Cavallo in H5 con scacco. E qui se si va ad attaccare il cavallo. Il cavallo di nuovo si sposta. Re in F7. Ma arriva re in F4. Il pedone avanza. Il nero sacrifica sì il pezzo. Ma con il re catturerà. L'altro pedone. Quindi rimangono sulla scacchiera. Solo i re. E la partita finisce in patta. Quindi una sfida totale questa qui. Tra Nakamura e Dubov. Che si è giocata sia teoricamente in apertura. Che poi nel medio gioco. E oltretutto. In questo interessantissimo finale. Nakamura con questa vittoria. Si prende il posto. Uno degli otto posti. Della finale. Della Herting Masters. Quindi lo vedremo giocare contro. Magnus Carlsen. Wesley Sofirugia. E altri quattro super campioni. Spero proprio che la partita vi sia piaciuta. Non dimenticate di iscrivervi al canale. E noi naturalmente. Ci vediamo domani con un nuovo video. Buona domenica a tutti. E a presto. Grazie a tutti.